Vediamo come sia ancora possibile utilizzare i sistemi tradizionali di pagamento per il contributo rematico quindi anche in contanti presso sportelli fisici inclusi ricevitorie e tabaccai. Sarà sufficiente legarsi sul sito bstgiustizia.it e accedere dalla parte inferiore alla voce pagamenti pago PA. Ci troveremo di fronte a questa maschera dove andremo sempre in fondo su altri pagamenti. Cliccando dunque su nuovo pagamento andremo ad inserire la tipologia di pagamento che per quanto ci riguarda sarà contributo unificato e o diritti di cancelleria. Successivamente selezioneremo l'ufficio giudiziario in cui effettuare il pagamento. In questo caso prendo il tribunale ordinario di Roma ovviamente. A vostra scelta inseriremo il nominativo del pagatore che può essere anche non l'avvocato ma ad esempio il cliente o chiunque o chiunque si voglia. Quindi e il relativo codice fiscale del pagatore. Questo è fondamentale che sia corretto perché ci servirà poi per ricercare le dicevute. Qui ci sono delle voci opzionali che possiamo anche saltare e ci ritroviamo nella parte del pagamento vero e proprio. Qui abbiamo due voci, il contributo unificato e i diritti di cancelleria. I diritti di cancelleria sarebbe ovviamente la cosiddetta marca da 27 euro. Nel caso di specie dovremo per queste due somme utilizzare due diversi pagamenti. Questa cosa vale solo nell'esempio che stiamo vedendo. Quindi selezioniamo prima il contributo unificato. Mettiamo la cifra del contributo unificato. La causale è obbligatoria. Ovviamente questo è un campo libero. A questo punto avremo l'opzione sia paga subito che genera avviso. Con il paga subito verremo rindirizzati con la modalità del pagamento di pago PA. Quella diciamo nota che in questo caso non ci interessa. Infatti in questo caso andremo ad utilizzare invece il genere avviso che è quello che proprio ci permette il pagamento in questa modalità che possiamo chiamare analogica. Clicco dunque sul genere avviso. Mi trovo nella schermata successiva in cui vado a scaricare l'avviso stesso che sarà un PDF. Ed eccoci qui. Nel PDF troviamo dunque il foglio che sarà fondamentalmente da stampare e da portare con noi quando andremo ad effettuare il pagamento. Vedete che qui abbiamo dei dati fondamentali che sono il codice fiscale del pagatore e il codice avviso. Quindi una volta effettuato il pagamento questi due dati ci serviranno appunto per andare a recuperare le ricevute telematiche necessarie per il deposito. A questo punto tornerò indietro perché dovrò effettuare la ricerca e quindi successivamente il download della ricevuta. Vi ricordo che la ricevuta necessaria per il deposito telematico è quella cosiddetta in XML. Quindi una ricevuta di non facile lettura ma è l'originale da utilizzare. Sarà disponibile anche il PDF che di solito io consiglio di allegare come copia di cortesia anche per la cancellazione. Inseriremo il codice fiscale che è l'identificativo del pagamento stesso. Eseguiremo la ricerca e avremo ovunque la possibilità di scaricare le ricevute. In questo caso non avendolo ancora effettuato ovviamente saranno vuote. Non appena la richiesta verrà elaborata avremo su richiesta e ricevuta le relative conferme. Quella che a noi interessa è la ricevuta. Grazie. Grazie.